A Taranto il ministro della cultura Gennaro San Giuliano, da oggi ufficialmente esposto al Museo Nazionale il gruppo scultorio in terracotta Orfeo e le sirene. Le sculture furono trafugate negli anni 70 con uno scavo clandestino finendo a Los Angeles. E' Fiorenza Pascazzi in fasce tricolore abitetto la nuova presidente dell'Anci. Da ieri è la sindaca dei sindaci pugliesi, 60 componenti nel Consiglio al suo fianco e un'agenda che va dalla spesa del PNRR agli organici. Sarò la presidente di tutti, rassicura. 60 anni di storia della fotografia italiana, dai primi scatti alle famose campagne pubblicitarie. Il castello Carlo Quinto di Monopoli ospita fino a fine agosto Oliviero Toscani, professione fotografo. Di nuovo insieme bentornati all'appuntamento in diretta con la nostra informazione in apertura il fronte ionico perché a Taranto non soltanto torna un gruppo scultorio, si chiama Orfeo e le sirene, che mancava dagli anni 70. A benedire questo ritorno c'è il ministro della cultura, Gennaro San Giuliano. Tra poco saremo in grado di darvi gli ultimi dettagli dal capoluogo ionico, intanto un altro fronte, quello aperto nella capitale sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Fare la differenza sono i numeri dei progetti in cantiere e di quelli che mancano ne ha discusso il ministro Fitto. Non prendo in considerazione di perdere le risorse, prendo in considerazione l'ipotesi di farlo arrivare a terra in maniera efficace. Ne è convinta Giorgia Meloni e il suo ministro Raffaele Fitto, che accoglie l'invito dell'opposizione a riferire in Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR. La trattativa è lunga, c'è un mese di tempo, è giusto quello che sta facendo Fitto, parlare, confrontarsi e ottenere dei risultati. Ma io sono assolutamente convinto che potremo spendere tutti i soldi con tutti i progetti. Questo governo sta studiando in maniera approfondita la questione, ha anche presentato un provvedimento legislativo che è attualmente al Senato, quindi è una questione che stiamo affrontando e che chiaramente dobbiamo risolverla tutti insieme. Le parole del capogruppo della Lega Riccardo Molinari sulla possibile rinuncia di alcuni progetti aprono le frizioni nel governo, anche se dall'esecutivo assicurano di no. Io sono assolutamente convinto che anche Molinari preferisca spenderli tutti e spenderli bene, e così noi faremo. Quindi nessuna preoccupazione? No, assolutamente nessuna preoccupazione, siamo nella classica tempesta in un bicchier d'acqua. Ma per le opposizioni la maggioranza è nel caos totale. Abbiamo speso dal 2020 al 2022 20 miliardi che sono praticamente meno della metà di quelli che invece erano stati programmati. Quindi ne stiamo perdendo una marea di soldi e questo doveva servire per supportare l'Italia in questa transizione necessaria. Diminuire la spesa per investimenti significa far crescere meno il paese, far crescere meno il paese significa avere un paese più povero. E quello che vogliono, se è così, invece di dare la colpa ai governi precedenti, si mettano d'accordo e ci dicano qual è la direzione di marcia. E noi siamo pronti a tornare in diretta dal Vinitaly per un doppio fronte istituzionale che ha visto nell'escorsione la visita del Presidente del Consiglio Giorgio Meloni e negli ultimi invece quelle del titolare dello sviluppo economico Guido Colosetto. Ci dice tutto il nostro Gianmarco Sanzolino. Gianmarco. Buon pomeriggio Antonio, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Mancano poche ore e si sta per concludere questa 55esima edizione di Vinitaly. Un'edizione davvero a gonfie vele, molto politica ma anche contraddistinta da un alto tasso di tecnicità. Insomma si sono fatti affari e poco turismo e questo ci dicono gli operatori è un dato assolutamente interessante. Ci siamo posizionati nell'area esterna con lo sfondo dell'area internazionale. Lo vedete? International Wine Hall perché ho dei dati a aggiornarvi. Nel dubbio facciamo così, rientriamo e abbiamo il tempo. Forse non mi sente. Antonio? Allora chiedo alla Regio di ripristinare il collegamento, diamo il consiglio di farlo e intanto parlare di quel comparto perché le quotazioni del grano duro subiscono un crollo e questo impatta in maniera diretta sulla filiera. I numeri e poi torniamo dal nostro Sanzolino. Noi probabilmente stiamo mettendo una pietra tombale su quella che è la storia, le radici dell'agricoltura ricapitanata. Lo sconforto rischia di diventare prima rassegnazione, poi abbandono di una cultura che rappresenta e racconta la storia e la ricchezza dell'agricoltura foggiana. Il prezzo del grano duro è in caduta libera già da tempo, raggiungendo dei minimi storici che impediscono agli agricoltori perfino di coprire i costi di produzione. Rispetto ai valori massimi raggiunti a giugno 2022, infatti, il prezzo del prodotto di punta della cerealicoltura pugliese è sceso di quasi 200 euro a tonnellata. Ormai il grano si compravende intorno ai 36 euro, il quintale 360 euro la tonnellata, per cui non so dove può portare ancora questa fase di calo. Di sicuro, mandando avanti in questo modo, i costi non saranno coperti. È stato istituito un tavolo tecnico al Ministero giorno 12, ci parteciperemo come Confagricoltura e altre datoriali, però non sappiamo, cercheremo di portare le nostre proposte, magari quella di essere concreti sul grano italiano e capire perché mai il grano italiano è così penalizzato rispetto al grano estero, che continua ad avere delle quotazioni abbastanza sostenute. La filiera quindi è a rischio interamente? Beh, c'eravamo fra l'altro abituati in un certo senso bene, ma non perché guadagnavamo tanto, ma essenzialmente perché i costi venivano coperti dagli aumenti che c'erano stati. Ora che si sta praticamente tornando indietro in questa situazione, abbiamo delle difficoltà importanti. E chi meglio del nostro Gianmarco Sanzolino per continuare a parlare della filiera e dal quale torno, al quale restituisco la linea, Gianmarco? Sì, grazie Antonio. Si è parlato molto di filiera dell'agricoltura. Il governo ha detto facciamo sistema attorno a questo comparto della nostra Italia che, lo ricordiamo, vale 30, oltre 30 miliardi di euro di fatturato. Allora, intanto siamo alle ultime ore di questo 55esimo Vinitaly che si sta per concludere ufficialmente intorno alle 16, ma vi possiamo già testimoniare, ma lo vedete anche con la nostra telecamera in diretta da Verona, che ormai ci sono poche persone. Per lo più radunate, ve lo faccio vedere, questa è un'annotazione di colore nell'area street food gourmet, dove si stanno gustando una serie di piatti deliziosi un po' da tutta l'Italia, soprattutto zone limitrofe. Ma intanto torniamo ai dati. Io mi sono posizionato, Antonio, non a caso, dinanzi all'International Wine Hall, perché questa è un'autentica novità dell'edizione. Pensate, oltre 150 vini da Serbia, Albania e Macedonia del Nord per la prima volta si presentano e degustano uniti sotto la bandiera di Open Balkan, perché non solo il business, ma anche la diplomazia e la collaborazione internazionale chiaramente passano attraverso l'assaggio di un calice nell'International Wine Hall che vedete, del Salone Internazionale dei Vini e dei Distillati, in corso e in via di conclusione i produttori di tre paesi dei Balcani hanno presentato una selezione delle migliori etichette dai diversi vigneti dell'aria, tra identità e potenzialità. Intanto, nelle ultime ore, tra gli ultimi ministri che hanno fatto visita alla fiera, anche quello alla difesa, Crosetto potrebbe centrare poco, invece no, ha presentato un progetto proprio di promozione del vino, ma più in generale del Made in Italy, attraverso, potremmo dire, la più importante nave della nostra marina militare. Ecco la nostra intervista al ministro Crosetto. Un Veneto mi ha detto ogni giorno serve una cariola di carte per poter lavorare e penso che renda perfettamente l'idea, quindi la prima cosa. La libertà di poter svolgere il lavoro senza troppi adempimenti che sono spesso improduttivi. La difesa, partendola al primo di luglio, manderà per due anni in giro per il mondo l'Amerigo Vespucci, con tappe in tutti i continenti e in ogni tappa si presenterà il Made in Italy. E allora, torniamo in diretta da Vin Italy, voglio adesso proporvi un servizio che riguarda tutto ciò che accade oltre alla fiera, perché le feste, i momenti di approfondimento proseguono anche nelle orre serali, sui tetti di Verone in questo caso, con l'Ais Puglia protagonista, con un appuntamento incentrato sulla promozione del nostro vigneto ma anche sui nostri ulivetti. Guardate. Bene, allora avremo modo di farlo tra poco, intanto io ne approfitto per ringraziare il nostro Gianmarco. Grazie Gianmarco, buon lavoro e a presto. Facciamo così, avremo modo di riascoltare non solo quello che ha a che fare con l'Ais che la regia sta mettendo a punto, intanto ne approfitto per dare il benvenuto e ringraziare la prima cittadina di Vitetto, ma dalle ultime ore anche sindaca dei sindaci di Puglia, Fioenza Pascazio. Grazie per essere con noi. Grazie, grazie a voi. Ha detto sarò il presidente di tutti, 60 componenti del Consiglio al suo fianco, qualche fibrillazione fisiologica nella vigilia. Da dove ripartiamo? Beh, guai se non ci fosse un minimo di confronto e di ansia prima delle votazioni. Comunque è andata bene, siamo riusciti e per questo ringrazio davvero tutti coloro che si sono impegnati nella costruzione di una lista Unitalia, che è anche un progetto di unità, di coesione, che consentirà le migliori premesse per cominciare a fare un ottimo lavoro. L'Anci Puglia è la casa dei sindaci pugliesi e quindi attraverso i sindaci anche di tutti quanti i cittadini delle nostre comunità. Partire con uno spirito di condivisione, di copianificazione e di collaborazione credo che sia in assoluto la partenza migliore. Cercheremo, perché me lo sono dato proprio come obiettivo e come metodo, quello di essere davvero inclusivi. Cioè a me farebbe tanto piacere se tutti i sindaci, ma me lo stanno dimostrando in queste ore perché da ieri il mio telefono non smette di suonare e arrivano messaggi davvero di grande solidarietà, supporto e entusiasmo, tutti i sindaci dovranno trovare ascolto e spazio dentro l'Anci Puglia. L'agenda è praticamente già fatta perché la spesa dei primi cittadini del Sud fa segnare un più 35% negli ultimi anni e invece i numeri di questa settimana sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fanno tirare il fiato. Prima battaglia, quella sugli organici, giovedì andiamo in Consiglio dei Ministri. Sì esattamente, sono due tematiche strettamente connesse, non potrebbe che essere così. Noi comuni abbiamo lanciato il nostro grido d'allarme già prima che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fosse varato. Abbiamo perfettamente chiare le criticità e quindi le soluzioni. Si è fatto forse un po' meno di quello che si poteva fare per aumentare gli organici. Ricordo che in Puglia abbiamo purtroppo un dato, una media regionale del rapporto dell'incidenza tra dipendenti comunali per migli abitanti inferiore rispetto alla media nazionale. Quindi questo si traduce nello stesso lavoro che fanno tutti i comuni italiani fatti però con meno risorse. Quindi da lì bisogna ripartire. Ad ogni modo, io vorrei anche rassicurare un po' tutti, noi comuni ce la stiamo mettendo davvero tutta con un grandissimo sforzo comune da parte di amministrazioni e uffici preposti e stiamo riuscendo a mantenere ferme le tappe di questa corsa del PNRR. Quindi stiamo garantendo il ritmo serrato. Quello che ci aiuterebbe, oltre a delle risorse di natura a livello di personale, sarebbe naturalmente la benedetta e concreta semplificazione. Perché quello che ci blocca di più è la richiesta di pareri e di autorizzazioni per progetti che invece hanno il compito di cambiare, stravolgere in meglio e proiettare le nostre città verso il futuro. Abbiamo 30 secondi, poi la devo congedare. L'ex sindaco di Catania Bianco ha detto intorno ai sindaci si continua a percepire una freddezza, quasi una diffidenza. Passa dal limite dei mandati all'abuso d'ufficio, lei la sente e dalla Puglia passano queste battaglie? Passano tutte queste battaglie, sono argomenti che abbiamo sul tavolo ed è strana questa freddezza, esattamente il contrario di quello che invece fanno i cittadini e sentono i cittadini. I sindaci sono la prima interfaccia, sono il punto di contatto tra la politica e le comunità e da lì che bisognerebbe ripartire. Il messaggio è fidatevi dei sindaci, grazie Presidente, buon lavoro a lei e alla comunità che guida e allora noi brindiamo anche i primi cittadini e lo facciamo tornando al Vinitali, eccolo qua. Una festa della delegazione pugliese dell'Associazione Italiana Sommelier mette in luce le diverse cultivar e i terroir, non soltanto degli ulivetti ma anche evidentemente della vigna di Puglia. Il tutto accade sui tetti di Verona, al di fuori della fiera Vinitali Continua. Non soltanto una festa ma anche una premiazione che ha messo in luce anche le nostre eccellenze pugliesi. Sicuramente sì, non solo festa ma anche premiazione. Abbiamo creato questo format con una caccia al tesoro iniziale dove c'erano dei giornalisti e degli influencer che ovviamente sono stati premiati per questa caccia al tesoro dove si parlava di Puglia, di territorio, di vitigni. Quindi ha vinto chi conosceva meglio il nostro territorio. Lei ha lanciato un appello attraverso questa serata attenzione a pensare al vino soltanto come una bevanda perché il vino è molto di più, c'è una profondità da esplorare. È verissimo, il vino è un simbolo della nostra civiltà ha un retaggio molto importante da un punto di vista storico-culturale è legato alle nostre tradizioni, alla nostra sensibilità al nostro lavoro, alla trasmissione di sapienza attraverso le generazioni al nostro rapporto con la terra. Emerge una necessità, non staccare i nostri vini dai territori anche perché poi si rischia di cadere nell'anonimato. Abbiamo capito che la Puglia ha questo straordinario patrimonio c'è stato un elenco dal Bombino al Nero di Troia sono tantissimi, Susu Magnello quindi chiaramente chi ha un tesoro non può gettarlo via. Il welfare, inclusione delle persone disabili nelle scuole pugliesi l'assessorato della regione mette 6 milioni di euro di budget vediamo da usare come. 6 milioni di euro del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità per potenziare gli sportelli per l'autismo nelle 6 scuole polo-regionali è il nuovo progetto presentato dall'assessorato regionale al welfare con interventi dedicati alle persone con spettro autistico. Due, le iniziative in programma da una parte il potenziamento degli sportelli dedicati all'autismo già presenti sul territorio che creeranno una vera e propria rete tra le 6 province pugliesi qui saranno realizzati corsi di formazione per i docenti. In questa maniera formando appunto il personale docente cerchiamo di favorire un percorso per i ragazzi per gli alunni con insomma affetti dallo spettro autistico di inclusione insomma reale quindi favorendo appunto la professionalità anche insomma la formazione dei docenti stesso. Dall'altra parte invece con un'ampia dotazione economica è previsto il potenziamento degli ambiti territoriali. Parallelamente nell'ambito della programmazione a favore delle persone a valenza sociale a favore delle persone con l'autismo e grazie a un fondo nazionale avremo una dotazione, un'assegnazione pari a 6 milioni e 400 mila euro che a nostra volta assegneremo agli ambiti sociali per creare e far sì che possano essere potenziati i servizi degli ambiti soprattutto nell'integrazione scolastica. E restiamo in regione un no alla proroga dell'autorizzazione integrata ambientale per l'Exilva arriva dal consigliere regionale Dembo Michele Mazzarano è arrivato ieri in commissione. La proroga dell'autorizzazione integrata ambientale all'Exilva sarebbe una scelta gravissima e quanto ha ribadito il consigliere regionale dell'APD Michele Mazzarano nel corso dell'audizione in quinta commissione ambiente dei referenti dell'ARPA l'Agenzia regionale protezione ambiente e di alcune associazioni ambientaliste rappresentate da Anna Maria Moschetti Fulvia Gravame, Luciano Manna e Bartolomeo Lucarelli. Mazzarano è preoccupato per i picchi di benzene rilevati dalle centraline di via Machiavelli alla quartiere Tamburi e chiede un tavolo di confronto tra territorio e governo regionale con il presidente Emiliano e l'assessore all'ambiente Maraschio. I picchi di benzene rilevati dalle centraline di ARPA Puglia intorno allo stabilimento siderologico di Taranto ci dicono che c'è ancora una grave emergenza ambientale a cui far fronte nonostante gli impianti di Taranto procedano a ranghi molto ridotti e la produzione sia molto bassa. C'è un fatto gravissimo di cui ci occuperemo nei prossimi mesi, nelle prossime settimane e riguarda la richiesta di proroga dell'autorizzazione integrata ambientale da parte dell'azienda. Riteniamo che sia la regione ma soprattutto lo Stato hanno bisogno di accendere un focus su questi aspetti perché il tema dell'inquinamento a Taranto e degli impatti sanitari sulla popolazione è ancora molto preoccupante. Ambiente fa rima con salute il piano di riallineamento dei costi della sanità pugliese ha subito alcune reazioni le prime sono quelle dei sindacati che chiedono un tavolo urgente all'assessorato per conoscere quali siano i progetti impattati dal piano in questione. Il piano antideffici della regione Puglia sulla sanità ha già più di una reazione ai sindacati di categorie dalla CGL allo SMI passando per Confintese UGS chiedono infatti all'assessorato un tavolo urgente sulla spesa farmaceutica specie dopo la decisione dell'Aggiunta di riallineare i costi come ne è desiderata dei ministeri a finanze e salute e l'incontro con i VG delle aziende sanitarie nelle scorse ore due ore e mezza di faccia a faccia in tutto per dettare la linea ad una settimana dal vertice a Roma che ha portato al piano di Via Gentile visto il disavanzo stimato in 450 milioni di euro e così i provvedimenti tutte le iniziative a partire dalle assunzioni dovranno passare al vaglio dell'esecutivo di Lungomare Nazario Osauro sul tavolo la delibera dell'Aggiunta niente più reclutamento in Sanita Service niente acquisti di beni o servizi che non rientrino nei LEA i livelli essenziali di assistenza niente lavori o macchinari con le risorse del Fondo Sanitario Regionale tanto più dal momento che c'è il paniere dei fondi europei dai quali attingere l'impostazione complessiva ma si procederà con incontri singoli per ogni azienda sanitaria locale la promessa di un monitoraggio mensile e poi un altro fronte aperto la possibile riduzione degli screening figli delle leggi approvate negli scorsi mesi dalla massima assise che vedono il presidente della commissione bilancio leader di azione Fabiano Amati big sponsor nessuna contestazione dal ministero sulle fasce d'età comprese e piena rispondenza i LEA rivendicano dal gruppo non senza citare un'altra legge quella sulla decadenza dei DG post sforamento sulla spesa farmaceutica che rischierebbe di invalidarne gli atti chiudiamo la pagina sulla sanità con l'ospedale Moscati di Taranto vi abbiamo dato conto nell'escorsione del cofinanziamento delle spese da parte della regione ma le preoccupazioni non mancano queste arrivano dall'opposizione è un po' l'oncologico solo sulla carta il nuovo allarme lanciato dalla consigliere regionale di Fratelli d'Italia Renato Perrini sulla situazione dell'ospedale Moscati di Taranto si può definire solo così prosegue una struttura in cui i malati non possono effettuare una risonanza magnetica esame necessario per le diagnosi dei tumori e vengono dirottati in altre strutture con i propri mezzi proprio per questo Perrini chiederà al presidente della commissione regionale Sanità Vizzino un'audizione in cui il presidente Emiliano e l'assessore alla sanità palese chiariscano quanto sta accadendo sono dieci anni che la regione Polia nella persona di Emiliano si è pensata soltanto alla costruzione del nuovo San Cataldo e si sta perdendo di vista le cose essenziali perché la sanità, la salute non può aspettare la costruzione dell'ospedale il Moscati che è un puro oncologico che grazie ai professionisti ai medici e ai sanitari che lavorano là dentro in questi anni ha fatto dei passi molto ma molto importanti in avanti che in un ospedale così importante non c'è diciamo un'attacca importante per i malati oncologici e questi mancano ancora dei macchinari manca addirittura il trasporto oncologico su questa città perché gente che non può soprattutto gli anziani ha bisogno soprattutto dei parenti dei figli per farsi accompagnare all'ospedale in altre città c'è il trasporto oncologico diciamo messo a disposizione dell'Az queste sono delle domande che farò in audizione a Emiliano e Palese per fare in modo che cominciano anche a ricordarsi di queste problematiche la cronaca noi andiamo subito a Brindisi perché era stato evacuato una parte della città per un possibile allarme bomba come è finita ce lo dice il nostro Davide Cucinelli Davide sì ti confermo che proprio nella tarda mattinata di oggi nel quartiere Commenda in una zona interessata dei lavori stradali era stato ritrovato un oggetto non identificato quindi sono intervenute immediatamente le forze dell'ordine gli artificieri di giro del fuoco per valutare la possibilità che si trattasse di un vecchio ordigno bellico la strada è stata interrotta è chiusa al traffico e il condominio presente proprio sotto il luogo dei lavori in corso è stato fatto evacuare poi con i controlli si è accertato che non si trattava di un ordigno bellico ma praticamente di un vecchio dissuasore stradale di grosse dimensioni in marmo che era stato appunto ricoperto dall'asfalto che quindi era rimasto lì sotto che è stato ritrovato e poi tolto dall'intervento degli operai che erano lì presenti con i macchinari quindi solo tanta paura fortunatamente nessun rischio bellico e di esplosione quindi poi le persone che sono state fatte evacuare sono state fatte rientrare in casa e la strada è stata riaperta al traffico senza nessuna difficoltà va bene grazie grazie Davide richiedeci la linea se dovessi avere ulteriori notizie indiscrezioni novità intanto restiamo nel capoluogo ionico è previsto per venerdì l'arrivo della Geo Barents la nave di medici senza frontiere che già nei giorni scorsi ha soccorso in 500 migranti a largo di Malta sbarcheranno a Brindisi presumibilmente nella giornata di venerdì 400 dei circa 500 migranti soccorsi nei giorni scorsi dalla Geo Barents la nave di medici senza frontiere in acque maltesi in serata si riunirà presso la prefettura di Brindisi il CCS il centro coordinamento dei soccorsi per approntare il dispositivo di assistenza e accoglienza inizialmente erano 440 le persone a bordo della nave durante la notte poi una è stata evacuata in elicottero a Malta a causa di una grave disidratazione i sopravvissuti hanno riferito di essere rimasti in mare per oltre 4 giorni di cui gli ultimi due senza cibo né acqua sono partiti dalla Libia vicino a Benghazi sabato 1 aprile provengono da Siria Pakistan Bangladesh Egitto Somalia e Sri Lanka il comandante ha fatto sapere che altre 100 persone scenderanno dalla Geo Barents nella giornata di oggi dopo un trasbordo verso un'imbarcazione dell'assetto navale italiano a largo delle coste siciliane dopo questa operazione la nave arriverà a Brindisi porto assegnato per lo sbarco delle altre 339 persone Cambiamo decisamente argomento lo facciamo con la pagina della cultura 60 anni di storia della fotografia italiana dai primi scatti alle più famose campagne pubblicitarie il castello Carlo Quinto di Monopoli è pronto ad ospitare fino alla fine di agosto Liviero Toscani professione fotografo dai primi anni 60 dalle sue primissime fotografie alle grandi campagne realizzate nel corso dei decenni da molti definito un pubblicitario in realtà ha sempre usato la pubblicità come mezzo per fare arte l'arte di Oliviero Toscani sbarca al castello Carlo Quinto di Monopoli con la mostra Oliviero Toscani professione fotografo curata da Nicolas Ballario e Lorenzo Madaro l'esposizione presenta gli scatti che hanno fatto la storia come il famoso manifesto di Jesus Jeans chi mi ama mi segua oppure bacio tra prete e suora del 1992 senza dimenticare gli scatti di moda con protagoniste Donna Jordan Claudia Schiffer e Monica Bellucci e ancora i ritratti delle personalità più note del cinema e della musica da Carmelo Bene a Federico Fellini fino a Mick Jagger e Lou Reed senza tralasciare il progetto Razza Umana con cui Toscani ha fotografato nelle piazze chiunque lo desiderasse dando vita al più grande archivio esistente sulle differenze sociali dell'umanità composto da 10.000 scatti la mostra resterà aperta fino al 26 agosto l'arte in generale deve essere l'arte ha a che fare con la condizione umana l'arte che non ha a che fare con la condizione umana è inutile è da attaccare così è una roba super elettile estetica quindi sicuramente denuncia uno quando pensa denuncia pensa subito alle cose no aver fotografato la minigonna era una denuncia sociale le denunce sono giornaliere quindi bisogna essere via stare via fare i testimoni e il proprio tempo era la nostra ultima notizia ci fermiamo ma torniamo tra poco con la pagina dedicata alle province di Bari Battefoggia state con noi rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo di Puglia